La valigia LX6517 Questa è la valigia LX6517. La valigia LX6517 è realizzata in alluminio gorfrato anodizzato. È dotata di specchio con impianto elettrico certificato CE. Nel fondo trova spazio e un ampio cassetto per alloggiare i vari prodotti. La valigia è dotata di due ruote esterne e maniglia laterale per facilitarne il trasporto. Abbinata allo stand BP100 ad altezza regolabile si può creare una postazione trucco professionale in ogni situazione. Ideale per presentazioni, dimostrazioni, trucco sposa e perché no anche per un uso personale.